Salve a tutti amici, bentrovati su TGG Television da Daniel e quest'oggi abbiamo altre due bustine goal di calciatori panini da spacchettare assieme. Questi sono due degli ultimi bottini trovati nei precedenti spacchettamenti, alcuni devo ancora andare a riprescare in edicola, quindi ancora alcuni codici da riscattare, alcuni codici, figurine speciali, figurine vincenti, come volete chiamarle. Intanto ho preso questi due, vinti singolarmente, una bustina e una bustina. Vediamo un po' cosa andremo a trovare oggi. Le ho presi in edicole diverse, non chiedetemi perché. Ricordo che all'interno di queste buste c'è una delle 24 figurine speciali che possono rappresentare un logo delle squadre di Serie A o una dei trofei o il logo della Serie A, più una card rappresentante uno dei 20 giocatori sulla copertina dell'album, con i dettagli dietro. Intanto abbiamo il logo dell'Atalanta, che se non sbaglio è l'ultimo dei loghi blu che mi manca, a sfondo blu. Vediamo qua, 1907 Atalanta, solito effetto speciale molto molto ben gradito. E cosa abbiamo? Mattia Perin, portiere del Genoa. Che ci manca ovviamente, abbiamo solo due speciali, due card. Vediamo un po', qui dietro troviamo una piccola descrizione del giocatore, ruolo, nata di nascita, peso, altezza e poi la serie di stagioni giocate nella squadra, con presenze e serie. Molto bene. Dopodiché abbiamo la seconda busta, in cui prevedo ci sia una doppia, perché mi pare di averla intravista dalla busta quando l'ho presa. Vediamo un po', spero di sbagliarmi, ma forse non è così. E infatti abbiamo la Supercoppa, che già avevo trovato, figurina speciale da scambiare, ovviamente. E la speciale è l'ultima versione possibile e immaginabile che potevo trovare, di lui che l'ho trovato in tutte le versioni possibili, Ciro, immobile della Lazio. Con tutto il suo repertorio di squadre in cui ha giocato in soli dieci anni, ha passato più squadre che anni, Sorrento, Juventus, 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 Siena, Grosseto, Juventus, Pescara, Genoa, Torino, Borussia, Dortmund, Siviglia, Torino, Lazio. Ha cambiato quasi ogni anno, a parte i primi. Ok, seconda card trovata per oggi, ne abbiamo già quattro, vi ricordo, tutte e quattro diverse per fortuna. Via, le buste aperte. Non mi resta che salutarvi e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.